È la lista della Presidente Susanna Ceccardi, quindi è la lista che cerca di fare la differenza affinché vi sia un cambiamento in Toscana. Toscana civica per il cambiamento è indubbiamente una delle novità di queste elezioni regionali 2020. È infatti la prima volta che una lista civica appoggia il centro-destra. La lista si presenta in tutte le circoscrizioni elettorali della Toscana. Cerchiamo un cambiamento che ridia spazio all'economia rurale montana, ridia il diritto di parola alla gente che spesso è limitato da mille veti o da mille politiche corrette, da cose solamente politicamente corrette. Occorre poi riscoprire i servizi sanitari, riconsegnare al pubblico la gestione di servizi importanti come il servizio idrico, quello dei rifiuti, il trasporto pubblico locale. Occorre che nei quartieri, nelle periferie ma anche nei paesi vi sia più sicurezza per i cittadini. Qual è composta la lista? È composta da otto persone, quattro uomini e quattro donne. Io sono il capolista Roberto Santi e abbiamo organizzato questa lista con rappresentanti del mondo delle istituzioni. Non vi è dietro un simbolo di partito, vi è un insieme di persone che lavorano per la presidenza di Susanna Ceccarti. Noi abbiamo per esempio uno storico dell'arte, io sono uno che lavora nella pubblica amministrazione come dirigente. Vi è poi una studentessa molto giovane che fa l'università nel mondo della sicurezza, studi superiori sulla sicurezza, quindi una persona molto specializzata. E poi abbiamo un commercialista che è in pensione, che ci è molto utile per alcuni aspetti, insomma. E poi abbiamo per esempio un operaio della Baraclitt, a Bibbiena e così via. Insomma siamo una lista che affronta e che copre tutto l'arco delle competenze e dei mestieri. Ecco, il civismo diventa sempre più importante in ogni corsa elettorale. Perché portarlo in regione? Appunto perché si porta le realtà locali, si porta i bisogni che hanno paesi, comunità, famiglie, aziende. Noi vogliamo, la regione toscana, delle competenze nell'assetto del territorio. Le nostre campagne oggi sono in mano a animali selvatici che spesso danneggiano l'economia dei nostri pastori, allevatori, coltivatori. I nostri torrenti hanno ormai un assetto del territorio completamente disastrato. Se viene fuori un incendio non si riesce nemmeno a arrivare e a spengerlo con le acque.